ciao a tutti ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie di video dedicata alla fotografia naturalistica in questi video il sottoscritto che lo fa di mestiere vi dirà le differenze che c'è fra l'utilizzo di ottiche fisse ottiche zoom quali sono i tuoi obiettivi migliori i grandi angolari i medi insomma tutta una serie di tutorial fra virgolette che un professionista mette a vostra disposizione su questo canale per darvi dei consigli allora oggi iniziamo parlando della fotografia naturalistica di animali ovviamente quindi mammiferi uccelli anfibi rettili via discorrendo con le ottiche fisse c'è sempre una diatriba in atto da ormai 30 anni meglio il zoom o meglio le ottiche fisse lo zoom è più performante perché tu nello stesso obiettivo hai più ottiche e ti permette di variare l'inquadratura a seconda della vicinanza o allontananza dell'animale a fronte però di una minore qualità diciamo rispetto all'ottica fissa la quale è stata concepita per essere in quell'ottica e vedremo oggi proprio in questo video come l'ottica fissa ha dei supporti di grande qualità che possono amplificare ampliare la gamma di potenza della dell'ottica stessa allora innanzitutto la prima cosa che dovete avere per avere una buona risulta un buon risultato naturalistica è una fotocamera performante io ovviamente prendo la 90d che è una delle migliori in assoluto che vi permette di lavorare anche in condizioni diciamo di luce scarsa una fotocamera che ha un sensore potentissimo che è veramente mostruoso quindi diciamo che senza andare troppo nel dettaglio tecnico vi dico che ci vuole una fotocamera che abbia delle performance molto molto elevate ma indipendemente dalla fotocamera perché magari non tutti possono permettersi una 90 una 5d una 1 di x una 70 un 80 sono fotocamere che vanno del 1000 euro in su la cosa più importante quella che io ho sempre definito il padrone di casa è l'ottica e l'ottica in particolare in particolare vi mostro l'ottica diciamo più amata dal fotografo naturalista e dal fotografo sportivo perché casualmente la fotografia sportiva va ad essere praticamente parallela alla fotografia naturalistica dove abbiamo bisogno di tempi veloci molta luminosità e performanti che è il 300 canon alla fiorite 28 che questo bestione che voi vedete nelle mie mani allora questo bestione questo visione che io adesso vado a montare nella 90 per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando e ve lo mostro proprio in diretta andiamo agganciare punto rosso con punto rosso vedete e la macchina è montata questo è la 90 con il 300 fuoco 28 fuoco 28 vuol dire che ha un'apertura molto ampia come vedete anche dalla lente frontale nonostante parla luce che la protegga no e quindi ti permette di avere delle condizioni di luce ottimali e dei tempi molto veloci i tempi molto veloci sono importanti perché se per esempio voi state fotografando un animale che corre qualsiasi esso sia un orso un lupo una lince un cervo un alce qualsiasi cosa oppure un uccello che spicca il volo o che atterra in picchiata per catturare un pesce un falco pescatore un aerone cenerino una gazzetta una cicogna scegliete voi quello che vi piace di più è importante avere dei tempi che vadano dal millesimo in su millesimo duemillesimo quattromillesimo ottomillesimo ok questa arriva anche a 16 millesimo che appunto è un'opzione mostruosa di questa fotocamera con sensore potentissimo con l'ottica fissa avete un grande vantaggio avete il vantaggio che avendo una qualità di base intrinseca questi sono questi obiettivi possono gamma l vedete gamma l c'è la l scritta no e sono ovviamente trattati con lenti particolari senza aberrazione cromatica alla floreite che fa appunto mantenere una luminosità mostruosa all'immagine restituendola nel modo più fedele possibile immaginabile qui stiamo parlando di professionalità ma stiamo parlando anche di l'amatore voluto che vuole fare foto di grande qualità per poter fare ingrandimenti e stampe perché fino a che voi una foto non la ingrandirete non vedrete mai la qualità perché spesso e volentieri gli schermi dei pc sia neanche windows o anche i mega schermi televisivi vanno a fare una correzione digitale dell'immagine rendendola migliore di quanto non sia nella realtà quando la fotografia è di grande qualità la vedete in una stampa grande formato o addirittura come sottoscritto quando vengono stampate su riviste tant'è che quando vengono mandate le immagini alle case editrici io quello faccio da 40 anni e ci sono molte immagini che vengono prese e altri di miei colleghi magari che non hanno avuto un attrezzatura di un certo livello che vengono scartate nonostante che la foto così l'impatto sia bella quindi non deve essere soltanto bella ma deve essere intrinsecamente qualitativa l'immagine dicevo abbiamo degli aiutanti sul campo che sono utilissimi per potere diciamo fotografare con le ottiche fisse e sono gli extender vi mostro i due extender il 2x e l'1,4x questi due accessori che anche anche loro sono costosissimi perché costano più o meno 400 euro l'uno quindi come vedete hanno un costo di un'ottica singola che cosa vanno a fare vanno montando questo fra l'obiettivo e la fotocamera ok messo in mezzo qua va bene oppure montando questo che hai due per ok fra l'obiettivo e la fotocamera quindi in mezzo dopo magari ve ne monto uno così lo vedete proprio fisicamente vanno moltiplicare la focale di base che è come questo caso 300 per il fattore di moltiplicazione 1 4x quindi 3x4 12 diventa un 420 e 3x2 fa 6 quindi diventa un 600 mm qual è diciamo l'handicap nel montare questo è che con il 1 e 4x si perde un diaframma quindi il 300 trasformato in 420 diventa un 420 fuoco 4 non più 2 8 la massima apertura è 4 montando il 2x diventa un 600 ma perdendo due diaframmi diventa un 600 fuoco 5.6 signori ma un 600 fuoco 5.6 su un'ottica alla florite canon con due extender alla florite canon sono nettamente meglio di tutte le ottiche universali a 600 mm che voi potete trovare ne cito alcuni tocchina tamron sony sigma nettamente nettamente meglio perché perché sono stati concepiti espressamente per le ottiche potenti di casa canon come il 300 come 400 come 500 come 600 non c'è persa non c'è perdita di velocità è proprio impercettibile la messa a fuoco è molto potente anche perché se avete una 90 avete una 1dx avete una 5 mark 3 avete queste fotocamere la messa a fuoco è velocissima di per sé quindi non ve ne accorgete neanche mantengono sempre l'fps di 10 fotogrammi al secondo come la 90 quelle che ne hanno otto ne hanno otto cioè quindi non viene perso nulla viene persa leggermente la luminosità che come vi ripeto in base all'extender che voi montate passerà da 3 da 2 8 a 4 o da 4 a 5 6 se montate il 2x e ovviamente una leggera perdita di definizione ma vi assicuro vi assicuro che è impercettibile chiaro che chiaro che se voi utilizzate 300 mm così da solo nude crudo sulla fotocamera come questo potete tranquillamente arrivare a degli iso elevati perché il rumore in fotocamere come questo ma anche quelle precedenti fino a 1600 iso non si nota a meno che facciate un ingrandimento esasperato chiaramente se montate l'extender 1 e 4 per o 2 per che aumentano la potenza a fronte di una minore luce che entra nell'obiettivo chiaramente avrete un rumore che sarà sensibilmente più visibile a iso più bassi quindi già 1600 la fotocamera vi restituirà un leggero rumore ma stiamo sempre parlando di cose impercettibili voi tenete presente che se provate a stampare la fotografia fatta con i miglior smartphone del mondo l'iphone 11 o 12 oppure il samsung di ultima generazione spacciati per capolavori che effettivamente se fate ingrandimenti di 10 15 o 20 30 sono delle bellissime foto se provate a fare degli ingrandimenti veramente di un certo livello o addirittura provare a mandare la foto alla casa editrice non ve la pubblicano perché devono stamparvela formato ridottissimo altrimenti viene fuori una schifezza quindi signori se voi volete in conclusione fotografare gli animali in libertà che hanno la peculiarità di farsi i cavoli loro gli affarazzi loro cioè correre improvvisamente spiccare il volo improvvisamente correre nella foresta scomparire insomma vivere la loro vita senza che voi fotoreporter né disturbiate le loro la loro vita quotidiana loro tran tran dovete avere la scelta fra un obiettivo fisso o un obiettivo zoom nel prossimo video che farò sempre di questa serie dei tutorial fotografia naturalistica vi spiegherò i pro e i contro delle ottiche zoom perché con l'ottica zoom c'è più versatilità ma magari sei meno qualitativo e rischi più magari aberrazioni cromatiche nell'immagine una cosa importante in conclusione di genere l'ottica fissa che come vedete è importante come dimensioni e anche come peso si utilizza quando si fanno appostamenti fissi cioè voi vi mettete in un posto in un capanno oppure vi mettete al margine della foresta in un posto dove sapete che c'è una tana in qualsiasi altra cosa e aspettate che l'evento accada cioè siete voi a tendere l'animale viceversa con gli zoom che sono più performanti e quindi più leggeri vi potete muovere e fate quella che viene chiamata la fotografia naturalistica vagante ovvero girate liberamente per il luogo in cui siete e quello che vi capita vi capita ovviamente dovrete essere molto bravi molto veloci perché l'animale se lo aspettate si muove davanti ai vostri occhi senza che se ne renda conto e quindi potete godervi tutta la scena così come madre natura la concepita se invece siete in giro vagando per i boschi per le foreste per i laghi per le paludi dove cavolo per le montagne dove volete voi chiaramente dovete essere molto attenti perché se vi spicca il volo un animale improvvisamente oppure vi sbuca fuori un animale dovete avere la prontezza di riflessi di scattare la foto scegliendo il tempo giusto il diaframmo giusto gli iso giusto e soprattutto metterlo a fuoco bene perché poi magari scattate e non avete mai messo a fuoco e vengono fuori delle fotografie scadenti o addirittura da cestinare va bene signori fatemi sapere se vi piace questa serie di tutorial che ho deciso di fare per tutti coloro che amano la fotografia naturalistica e non solo perché vedrete che poi vi spiegherò anche fotografie di cerimonie ritrattistica ben pianino se ci sarà tempo volentieri io farò tutti questi tutorial che non sono corsi di fotografia che faccio argomentamente e chi volesse partecipare ai miei corsi non deve far altro che contattarmi nella mail qua sotto che trovate scritta maxmontainachiocciolagmail.com e vi scrivete io faccio corsi di ritratistica di cerimonie di natura di sport di tutti gli argomenti possibili immaginabili che possono essere fatti ad esclusa la subacquea perché io non faccio fotografia subacquea e non sono in grado e non sono all'altezza vi ringrazio mettete un like se vi è piaciuto il video commentate chiedete io sono a vostra disposizione come avete visto in maniera totalmente gratuita ciao a tutti e che la fotografia sia sempre una parte di voi aBecausea a a a a a